Non fare così, dai, smettila, smettila subito! Mica esisto solo io! Ciao! Mi vado. Mi vado. Almeno rispondi. Perché per lei è così importante quel cd? Lei... Lei! Ma lei... Per quale tu ci sei, Clara? Ora ricordo... Ecco dove la fai. Aspettami, dai, ti prego, per piacere! Regia Enrico Omodeo Salè e Luca Angeli Interpreti Alessandro Tacconi Sveva Raimondi Siamo tutti Stanza Danza.